Adesso vi parla per i prodotti che sono gli ultimi risolati. Voi che studiate, anche voi che lavorate eccetera, questo è interessante, questa è una guida alla progettazione che si utilizza la MAPEI, www.mapei.it, basta registrarsi e poi si accede. Ci sono tutte le procedure che possono essere utilizzate in base ai problemi, redazione di capitolati e schede. Questo è comodo per i progettisti, ma potrebbe essere teoricamente, altrimenti potrebbe essere comodo pure per chi studia, sempre lavorare. Questo è il sostituto della MAPEI ragazzi. Questa è una paglientazione industriale, in effetti questo è un cemento industriale, e noi produciamo solamente questa pastina colorata, che è il MAPEI, R6 ed è di vari colori, ed è la finitura praticamente, quella che chiamano la finitura abbuazio. Quindi è anche molto resistente agli spots, chiaramente. Certo. Altrettanto è di un altro colore, anche di un altro colore. Un altro colore. Questi sacchetti, dopo li vedete, sono nuovi sacchi e sono in plastica. Quindi sono completamente impermeabili, sono da cantiere, perché solitamente nei cantieri, quando viene a provare gli ultimi sacchi, sono sempre quelli lì che si rovinano, eccetera. Questi qui sono completamente impermeabili, cosa comoda che una volta utilizzati vanno nella tutta della plastica e quindi sono in giro là. Grazie.